buonasera a tutti e a tutte allora stasera sono qua per parlarvi di un argomento che è veramente molto importante per me ovvero il make up sposa allora colgo l'occasione di parlare di questo argomento proprio perché stamani ho fatto la mia prima prova trucco sposa del 2023 e ringrazio fino ad oggi tutte le spose che negli anni precedenti si sono affidati a me vi ringrazio con il cuore mi avete reso veramente felice ho condiviso con tante spose dei momenti davvero belli e davvero questo lavoro mi regala tantissima soddisfazione tante gioie e oggi è stata la prima prova trucco del 2023 perché già oggi ho già un discreto numero di spose che mi hanno chiesto di truccarle per quest'anno sono davvero molto contenta ma parliamo del trucco sposa come deve essere un trucco sposa ben fatto e soprattutto adatto a quel giorno così importante allora sicuramente il trucco sposa richiede delle caratteristiche che sono una pelle luminosa una pelle naturale un effetto naturale e soprattutto sopracciglia ben curate quindi uno sguardo ben incorniciato dalle sopracciglia e pelle perfetta quindi un make up che valorizzi ma soprattutto che vada a illuminare la pelle della sposa e che cosa vuol dire luminoso non vuol dire con i glitter o come magari si può pensare che tende a lucidare ma deve essere una pelle radiosa questo è fondamentale perché la sposa deve emanare freschezza deve emanare luminosità e soprattutto in quel giorno deve essere splendida quindi secondo me nel mio stile per come io trucco la pelle deve essere davvero bella e ci tengo davvero molto per cui tendo a curare la pelle nei mesi precedenti del matrimonio proponendo alla sposa un incontro per capire bene la sua skin care come deve essere fatta per arrivare al giorno delle nozze in buono stato quindi è fondamentale fare una skin care adeguata nei mesi precedenti come deve essere quindi questo trucco sicuramente dovete scegliere un trucco waterproof e quindi che resista alle lacrime e al sudore e abbia anche diciamo una buona performance sul viso oltretutto quindi devono essere due fattori davvero molto stretti fra loro e soprattutto è realmente importante che funzioni questa combo quindi durata e ottimi prodotti perché andrete a fare le foto quindi chiaramente non dovete avere flashback nelle foto non dovete usare prodotti appunto che poi vi ricreano questi effetti strani nelle foto e dovete cercare soprattutto di apparire fresche come makeup e quindi vi consiglio sempre che sia nelle vostre corde ma soprattutto che non sia veramente scuro troppo scuro troppo pesante che possa appesantirvi perché questo è quello che io penso realmente in un primo momento la sposa si piace perché si vede diciamo con un trucco più un marcato valorizzata ma passando gli anni quando poi andrete a riguardare il vostro book del matrimonio vi renderete conto effettivamente che magari non siete poi state consigliate così tanto bene perché un trucco tanto pesante che appesantisce comunque lineamente del viso lo sguardo a lungo andare anche a riguardare le foto questo è capitato a una mia amica quindi io lo dico perché effettivamente lei me lo dice sempre poi vedrete che troppo pesante è realmente secondo me un po' sbagliato il giorno delle nozze quindi vi consiglio proprio di optare per fondi molto fluidi molto liquidi pelle veramente leggera mascherare delle piccole imperfezioni con dei correttori e evitare l'effetto cerone nel viso perché quello è fondamentale quindi la pelle si deve vedere che comunque è curata bene sotto e risplende di luce propria anche quando la guardate dovete utilizzare correttori e primer per il correttore sempre waterproof a lunghissima tenuta e ovviamente una cipria buona ad alta definizione soprattutto per i matrimoni mi piace utilizzare la cipria trasparente a me perché valorizza l'incarnato senza cambiare il colore senza stravolgere troppo diciamo quello che è la bellezza naturale del viso un'altra cosa fondamentale è il make up occhi allora il make up occhi può essere realizzato con ombretti opachi o satinati ma mai glitterati perché questo effetto può provocare diciamo dei fastidi quindi dei flashback nelle foto e può essere appunto di fastidio anche al fotografo stesso quando andrà a rielaborare le vostre foto quindi preferite dei toni opachi o satinati per il giorno del vostro matrimonio e mascara rigorosamente waterproof eyeliner rigorosamente waterproof e se desiderate potete assolutamente applicare le ciglia finte quello che conta è un buon contouring quindi diciamo il viso deve essere scolpito in modo naturale e non troppo pesante anche qua le labbra a me piacciono i look tantissimo con le labbra molto naturali un pochino anche diciamo demi matt non proprio matt perché a me piace le labbra luminose piacciono le labbra luminose l'effetto un po' più luminoso più carnoso più fresco nella sposa e un'altra cosa secondo me molto importante è non dimenticare assolutamente il primer occhi perché quello è anche un primer labbra ovviamente anche di questo sempre diciamo di questo passo perché il primer labbra è un primer che permette al rossetto di durare di più alla vostra matita di non colare di non sbavare stessa cosa per il primer occhi ombretti che durano molto di più trucco che non colerà non andrà nelle pieghe e poi una cosa importantissima il tocco finale lo spray fissante lo spray fissante è la cosa che serve assolutamente e non può mai mancare in un make up sposa ben fatto quindi via libera allo spray fissante una cosa fondamentale soprattutto per chi ha la pelle mista grassa dovete portarvi nella borsetta le salviettine quelle diciamo di velina per potervi tamponare il make up durante il giorno senza portarvi via il make up appunto e rendere il viso nuovamente assotto e perfetto quindi questi sono diciamo gli accorgimenti da utilizzare per un make up sposa poi ci sono a volte dei casi in cui la sposa ama il rossetto rosso ama un look più grafico un look più grintoso perché no? certo tutto si può assolutamente fare e lo possiamo senz'altro usare però un buon truccatore consiglierà alla sposa che ha di fronte un certo stile e quindi se quello stile si addice a lei oppure no e vi consiglio di ascoltare comunque il parere di un professionista perché il professionista vede al di là vede al di là di quello che sono diciamo le vostre aspettative il vostro gusto personale e sicuramente saprò consigliarvi bene quindi questo era il mio pensiero sul make up sposa e ovviamente come ultimo tocco diciamo per il trucco prima di dare lo spray fissante un leggero tocco di illuminante sui punti chiavi del viso renderà il vostro look senz'altro molto bello luminoso e da ricordare quindi io vi saluto vi mando un abbraccio, un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao